La Norvegia deve immediatamente interrompere le sue attività commerciali legate alla caccia alla balena, e assicurarsi che le carni di questo cetaceo non transitino nei porti dell'Unione. È questo quanto richiesto dagli eurodeputati con una risoluzione approvata dall'Assemblea plenaria di Strasburgo del Parlamento europeo. Tuttavia è bene ricordare che, non facendo parte dell'Unione europea, la Norvegia non è a rischio sanzioni.